Ma guardi, ti dico la verità, io non mi tolgo il sassolino dalla scarpa, mi tolgo il dente e dico quello che penso. Se io penso quello che dico è meglio che sto zitto perché l'Europa League è così. Il Milan è una squadra che sta facendo i numeri, chiunque metti fa la differenza. E voglio fare i complimenti a Pioli che sicuramente sta facendo un gran lavoro. Il Napoli è una squadra maschio come il suo allenatore che deve dimostrare che in Italia e in Europa è la stessa cosa. Non bisogna mettere uno davanti e l'altro dietro. Quindi sicuramente sono contento perché il Napoli ha dimostrato che può fare tutte e due le competizioni senza tralasciare nulla cosa al caso. Per quanto riguarda la Roma, la Roma è stata deludente ieri perché Fonseca fa le prove. Ma le prove le fanno a Spa-Francorchamps, a Hockenheim. Quale prove? Bisogna fare i primi risultati e poi non dare alibi a quelli che ti mettono sempre sulla gratticola. Per cui dico a Fonseca che è bravo, gli voglio bene come un cane. Però le prove vanno fatte dopo che tu hai fatto una serie, un filotto di risultati che consentono alla squadra di stare tranquilli e ai tifosi di non rompere le scatole. Comunque complimenti a tutte le squadre italiane che hanno fatto bene, tranne la Juve che ha giocato con i marziani. Un abbraccio forte! Un abbraccio forte!